Una partita importante sia per noi che per loro, perché loro facendo il risultato pieno possono chiudere il secondo posto. Noi facendo il risultato possiamo aprire il campionato per il secondo posto, perché non ci siamo noi che sono noi e Empoli, credo che ci sono altri due o tre squadre, però in questo momento l'importante è continuare a fare il risultato come stiamo facendo fino adesso. Sanno che possono contare su di me perché già dall'inizio del campionato quando si va in ritiro, io quando faccio le interviste dico sempre che i ragazzi seguono sempre i più grandi, perché ci siamo io, De Giorgio, Del Prete, Concetti, siamo 4-5 grandi e tutti i ragazzi che non hanno nemmeno bisogno di bacchettarli perché sono ragazzi dirigenti e sanno che loro si possono giocare un futuro a Crotone perché Crotone ha fatto crescere tanti ragazzi e quindi sanno che è un trampolino di lancio. Come sempre siamo partiti per salvarci perché è inutile che adesso ci nascondiamo. Arrivata alla salvezza abbiamo alzato una sticella perché vediamo che il campionato che stiamo facendo possiamo dire è la nostra. Noi andiamo ad Empoli e dobbiamo giocare come stiamo facendo, poi a fine partita chi gioca meglio vince. Noi sappiamo che facendo il risultato ad Empoli possiamo aprire il campionato per il secondo posto, perché ci siamo quelle 4-5 squadre che ancora lottiamo per arrivare al secondo posto, però noi non dobbiamo andare con questa testa perché io e i miei compagni dico sempre che dobbiamo giocare come stiamo facendo, senza pensare playoff oppure secondo posto. Tranquilli perché i risultati stanno arrivando e spero che alla fine possiamo regalare una gioia a noi che ce lo meritiamo, al presidente, al mister e a tutti i tifosi.